allora ciao a tutti benvenuti e benvenuti a questo nuovo appuntamento questo è il primo esperimento di un nuovo format che abbiamo pensato che anche a seguito della un po delle restrizioni dovute all'emergenza covid quindi abbiamo preferito un evento non non live ma registrato in modo che ciascuno lo possa seguire quando meglio preferisce ormai siamo abituati purtroppo in questo periodo a stare a passare parecchie ore al giorno in videoconferenza e quindi abbiamo pensato che il solito evento in streaming in tempo reale potesse essere un ulteriore insomma carico di lavoro eccessivo per chi fosse interessato a seguire il nostro argomento quindi abbiamo pensato a questo nuovo format in particolare questo è il primo esperimento di tech talk abbiamo pensato a questi tre format uno all my beer tech more e tech talk che hanno un taglio un po differente all my beer più un po più tecnico legato alla scrittura di codice in tempo reale durante l'evento tech more il classico talk dove qualcuno spiega una tecnologia nuova o un qualcosa di particolare invece il tech talk è una sorta di intervista dove raccontiamo non solo parliamo di tecnologia ma di come questa tecnologia poi è stata utilizzata per risolvere dei problemi dei dell'applicata dei casi d'uso reali da parte di delle aziende quindi questo è il l'incontro di oggi è intitolato l'abbiamo intitolato dei giorni to elastic search perché parliamo appunto di della tecnologia elastic search e in particolare abbiamo ospiti oggi inizio con ringraziarli di aver accettato l'invito abbiamo ospiti gli amici di neodata faccio anche una breve introduzione nostra chi siamo noi noi siamo un gruppo di di tre aziende agile hub per chi ci non ci conoscesse un'azienda che si occupa di consulting principalmente in in ambito di tecnologia big data quindi tutto quello che va dal da quello che il mondo dei ad up spark no sequel tecnologie scalabili in generale poi abbiamo agi skill che si occupa della parte di formazione appunto della che qui rappresentata da me e da e da fabrizio e in tu che la nostra azienda del gruppo che si occupa di artificial intelligence applicato alla computer vision ma passiamo questi siamo noi ma passo veloce qui invece mi interessava presentare i nostri ospiti salvo e sito di di neodata a cui rinnovo il ringraziamento e passo la la parola e salvo inizia a introducendo un po neodata la tua azienda di di cosa vi occupate che prodotti sviluppate e poi magari ci ci presenti tu stesso i tuoi colleghi che che interverranno oggi grazie salvo innanzitutto di essere qui ciao a tutti grazie mario ciao fabrizio davvero un piacere per noi essere qui oggi per parlare di tecnologia neodata è una società prevalentemente tecnologica e sapete la storia inizia con poco come una barzelletta c'era un catanese un paresino a los angeles abbiamo anche una una slide su questo eccola sì ecco grazie e abbiamo delle esperienze lavoravano in un posto di diversi hanno deciso di fondare un'azienda intornata in italia quindi triangoliamo con l'italia di fondare un'azienda un'azienda che con l'obiettivo semplice anche ambizioso di cercare di aiutare le aziende a risolvere problemi che hanno a che fare con i dati infatti il nome neodata sottolinea proprio la 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 stretta relazione con il mondo dei dati specialmente nell'ambito digital l'idea è nata quindi cercando di partire da originariamente da un prodotto che ancora non c'era in italia che era la server una cosa che è abbastanza comune adesso però che nel 2003 ancora era abbastanza sconosciuta c'è la capacità di poter mostrare dei banner pubblicitari e in modo interattivo in modo dinamico sulla base delle esperienze per poi anche volversi su altri prodotti in particolare cinque anni fa abbiamo lanciato sul mercato una piattaforma di analisi di dati quindi neodata sostanzialmente è una società che lavora con brand lavora con broadcaster lavora con publisher italiani e europei allo scopo di fornire soluzioni per migliorare la loro esperienza e la nostra storia ha più di 15 anni ed è contornata da diversi diverse fasi e nel nostro team sono persone che sono da molto tempo mark e calogero che sono con me oggi sono due longevi da volte 10 anni presenti in neodata marca il ruolo di system market manager il nostro come dire innovation anche lui triangola da londra ok quindi anche lui viene da viene da lontano e si è avvicinato e trasferito e vive adesso in italia e calogero che dopo aver fatto un paio di pcd in giro per il mondo è ritornato a catania e collaboro con noi insieme a tanti altri quindi siamo molto vicini all'ambito accademico tanti di noi hanno fatto il dottorato collaborano con università collaborano con aziende vicine e proviamo in qualche modo un po che divertirci facendo tecnologia e di offrire delle soluzioni grazie grazie mille salvo allora oggi parleremo di elastic search la prima domanda che vorrei farti è di raccontarci un po quale è stato il lo use case in particolare l'esigenza che vi ha portato a approvare inizialmente questa tecnologia e poi a sposarla dopo aver riscontrato diciamo i vantaggi legati all'utilizzo di questo tipo di tecnologia qual era il problema che che avevate e cosa vi ha spinto a provare elastic search e cosa come avete risolto il vostro problema specifico si e ti dirò come dire un caso su cui veramente abbiamo riscontrato con una tecnologia che era abbastanza nuova ma che abbiamo iniziato a sperimentare fosse esattamente la miglior soluzione per un problema come come accennavo ex audi è una soluzione che raccoglie che traccia comportamenti degli utenti nei canali digital per cui per ogni identificativo anonimo dell'utente vengono tracciate molte informazioni che hanno a che fare con loro comportamenti con tutte le azioni che hanno fatto ho visitato una certa pagina ho visitato una certa campagna piuttosto che ho fatto una certa azione e normalmente i nostri clienti hanno questi hanno necessità di interrogare queste informazioni al fine di ottenere dei target di game di target su cui normalmente lanciare dei messaggi e questa fase di costruzione dell'audience è una fase che interattiva per cui il primo caso d'uso su cui siamo partiti era proprio la capacità di stimare in tempo reale il numero di utenti che soddisfacesse determinati criteri ok e che inizialmente come dire è partito con l'implementazione con un classico strumento cioè una query su un data warehouse anche di certe capacità quindi noi storicamente siamo passati dall'utilizzo dei database tradizionali ai data warehouse un po' più strutturati per cui citando reddish piuttosto che secure server ma che pur avendo capacità di calcolo e diciamo sistemi di indicizzazione più evoluti al momento in cui la dimensione dei dati cresceva in modo significativo rendeva l'utilizzo di queste query lenta ad essere eseguita e chiaramente trattandosi di un processo che avviene in forma interattiva l'esperienza dell'utente era penalizzante per cui ho generalmente provato a ottimizzare un po' in casa questa queste queste query finché c'è in modo l'idea di provare l'assist search e di pensare di rimodulare completamente questo questo schema utilizzando l'assist search se vuoi il modo più semplice per capire di quello stiamo parlando è mostrarti in modo visuale ok io prima di continuare e far vedere lo strumento avevo preparato una piccola introduzione magari per chi ascolta diciamo si approccia a questa tematica per la prima volta faccio un po il mio uno dei miei mestieri che è quello di trainer no quindi cerco di spiegarlo in modo semplice hai parlato tutti di database relazionali quindi che tipicamente sono di tipo operazionale o analitico quindi o il tp o l'app poi ci sono i vari database no sql quelli diciamo di tipo le quattro macro macro categorie principali sono i key value utilizzati spesso come cache o come session storage distribuito e così via poi abbiamo i colonnari che sono probabilmente diciamo di i database analitici per eccellenza in tutte le loro poi declinazioni più più moderne quindi i vari white columnar cosiddetti big table quindi tutte le varianti di google big table in poi vari age base cassandra e così via abbiamo i database a grafo molto utilizzati per delle applicazioni un po più di nicchia spesso utilizzati anche da base di dati per le interazioni con gli utenti a back end dei sistemi raccomandazione e poi abbiamo i documento oriented che 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 un po si avvicinano al modo con cui elasticsearch archiva i dati quindi il classico storage di dati cosiddetti semi strutturati il l'esempio classico il file json che vado a buttare dentro una una collection per poi andarlo a a indirizzare molto spesso e la si search viene confuso tra virgolette con un database no sql di tipo documento oriente in realtà la parte di archiviazione diciamo di storici di di elasticsearch è un po un po secondaria perché come dice il nome stesse la sister c'è pensato principalmente per andare ad indicizzare i dati in particolare utilizza come tecnica primaria quella degli invert di index utilizza lucin che è un altro engine open source dietro le quinte per andare a creare questi invert di index quindi quello che fa elasticsearch quando ci buttiamo dentro un dato è quello di andare a estrarre appunto questi indici invertiti andarli a memorizzare e renderli poi disponibili nel momento in cui vogliamo andare a fare una interrogazione chiaramente la cosa quello che lo rende poi la caratteristica lo rende così potente è quello di andare a distribuire l'archiviazione di questi indici e quindi renderli facilmente ma ne maneggevo diciamo manutenibili andandoli a suddividere su un cluster di macchine o molto semplificato la cosa perché in realtà è un sistema molto più più complesso però volevo fare questo cappello questa questa introduzione per chi non ha mai sentito parlare di questo tipo di tecnologie quindi forse la il concetto chiave è quello di non confonderlo proprio con un classico database no sequel ma è un proprio un motore di ricerca che poi ha un layer di archiviazione sottostante ok questa è l'interfaccia come dire una delle interfacce del processo di acquisizione quindi immaginate a sinistra tutta una serie di attributi e utente che sono calcolati o attraverso algoritmi di interesse artificiale piuttosto che direttamente acquisiti in questo caso per esempio se sono il genere ok posso selezionare all'interno della mia audience gli utenti quindi un ipotetico brand è piuttosto che di un di un broadcaster e voi selezionare tutti gli uomini a questo punto vorrei sapere che quanti utenti soddisfano questo criterio questo al fine di poi di generare effettivamente una lista di utenti che corrisponde a questo match avere quindi una stima in tempo reale di quello che poi tipicamente nel mondo del marketing è il funnel di acquisizione questa quindi questa interrogazione c'è gender uguale mail la prima query che si faceva in database è abbastanza semplice database colonnari questi la fanno veloce momento in cui cominciavo ad associare comincio ad associare ad esempio la visita a un certo quotidiano ok quindi seleziono tutti quelli che adesso magari non ce n'è neanche uno però vediamo e comincio eccola invece comincio a combinare in modo sempre più sofisticato quelli che non solo sono maschi ma hanno visto repubblica e per esempio hanno utilizzato come device un pc ok saranno sempre di meno ok la complessità di questa interrogazione che prima veniva trasformata in una query sequele diventava sostanzialmente un tempo di attesa infinito e per l'esperienza dell'utente era abbastanza frustrante ora nascendo nei dettagli tecnici su cui magari i miei colleghi sono preparati di me però da un punto di vista di prodotto avere un sistema di interrogazione di questo tipo che impiegava minuti per rispondere sostanzialmente sostanzialmente inutile da cui l'intuizione è partita un po' quasi per gioco di dire ma non è che possiamo trasformare questa query in una ricerca su un indice ben strutturato perché non ci proviamo e qui siamo stati un po' abbandaggiati dall'architettura che ha un app in mezzo che permetteva di trasformare come dire questa interrogazione in da una da un json in una in query e quindi abbiamo potuto provare anche in tempo reale la bondà di questo approccio ottimo ottimo tra l'altro se non sbaglio stai facendo ci stai facendo vedere un ambiente di demo vedo ma su numeri abbastanza insomma su una base dati di dimensioni quasi reali no perché vedo assolutamente sì siamo 26 milioni di utenti corrispondono sì sono ecco è importante dire questa cosa questo problema non si presentava quando eravamo sui clienti con 10 milioni di utenti e 100 milioni di azioni lì con un database ce la facciamo tranquillamente quando siamo saliti al miliardo di azioni mensile sostanzialmente i database si sono cominciati a sedere un attimo a lamentarsi un po e ci credo anche veramente impressionante il fatto che si riescono a fare queste cose praticamente in tempo reale mi piacerebbe tuttavia capire diciamo qual è stato il prezzo da pagare perché immagino ad esempio ma questo ti chiedo conferma che una velocità nelle interrogazioni corrisponda a dover pagare un prezzo in termini performance nelle scritture ci saranno credo delle operazioni magari batch che andranno a ricostruire questi indici periodicamente o non che sono popolati in real time mia real time non so come se avete avuto difficoltà in tal senso e poi un'altra domanda è quella in termini di storage quanto occupano gli indici rispetto al dato grezzo quindi se c'è un incremento anche considerevole in termini di spazio occupato suppongo anche qui che ci sia un minimo di overhead quindi diciamo le due domande sono in quanto si paga in termini di costo nelle scritture questa questo tipo di approccio e in termini anche di utilizzo di storage rispetto a quello del dato grezzo allora effettivamente sì c'è un prezzo da pagare nell'ingestione dei dati che è più lente nell'assistente perché praticamente deve costruire l'indice mentre invece nel database relazionale semplicemente tutti i dati nel database senza molto pro-progesting nel database nel strumento dell'assistente dovendo costruire tutto l'indice inverso è un po' più lento poi c'è anche il problema della cancellazione dei dati perché in Elasticsearch i dati non sono cancellati immediatamente come vengono cancellati in database relazionale ma vengono ogni singolo utente che viene cancellato, ogni singolo record che viene cancellato viene marcato come cancellato e poi soltanto dopo successivamente quando ottimizza il sistema vengono effettivamente cancellati per risolvere ad esempio il problema della cancellazione c'è da dire che noi abbiamo due indici un indice per il funnel che è stato usato da Falvo nella demo e poi un altro indice che viene usato per calcolare offline gli effettivi utenti che vengono a che partengono al segmento quindi il primo indice è soltanto per contare il numero degli utenti il secondo indice è invece per esclarli effettivamente il primo indice è un sample quindi invece di essere il 100% di tutti gli utenti è circa il 20% di tutti gli utenti in maniera tale che noi possiamo contare più rapidamente il secondo indice invece deve essere completo perché dobbiamo estrarre tutti gli utenti nel primo indice per risolvere il problema della cancellazione noi non cancelliamo gli utenti man mano a mano che scompaiono ma rigeneriamo l'indice una volta al giorno in maniera tale che così la cancellazione ha un costo praticamente zero nel secondo indice invece questo non lo possiamo fare perché il dato di ingestion è molto molto più lento perché dobbiamo caricare nell'indice tutti gli utenti e quindi allora abbiamo fatto un ingesting incrementale e la cancellazione viene fatta anche essere incrementale però alla fine del processo prima inseriamo tutti gli utenti poi li calcoliamo il segmento e dopo alla fine facciamo dopo che abbiamo finito facciamo la cancellazione complessivamente per i clienti più grossi possiamo arrivare fino a consumare fino a un tera di spazio complessivo nell'indice offline quindi effettivamente c'è un costo notevole di spazio che viene consumato vorrei farla anche io una domanda se posso tranquillamente su questo ambito più che altro oltre al fatto degli indici dello spazio che giustamente come viene spiegato e ha spiegato anche bene nelle slide iniziali anche Mario io mi domando più che altro le difficoltà perché il saltare di tecnologia quindi abbandonare un relazionale andare su una tecnologia veramente nuova non sarà stato semplice sia lato scelta e sia invece lato implementativo quindi come avete vissuto questa esperienza? diciamo che ci sono state delle difficoltà sul fatto che il linguaggio di Lattie Search è diverso dal linguaggio SQL quindi ci sono ad esempio delle fiche di SQL che non sono disponibili in Lattie Search e viceversa una fiche di SQL ad esempio che è molto usata è il group by having si può raggruppare ad esempio per utente tutte le azioni dell'utente e poi mette una condizione having permette di dire che tutti gli utenti che hanno avuto ad esempio più di 10 azioni questo in SQL ci veniva molto facile purtroppo in un'attestanza questo group by having soprattutto la parte di having non c'è quindi abbiamo dovuto risolverlo facendo una traduzione molto più complessa essenzialmente abbiamo risolto modificando lo score della ricerca dei documenti qui nei dati vedete un esempio molto più semplice possiamo discutere questo esempio se volete anche se non è sì sì per capire come che facciamo allora a sinistra c'è un utente 6 di esempio questo è un documento con 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 tutte le caratteristiche dell'utente abbiamo l'identificazione dell'utente il genere dell'utente in questo caso una donna l'età dell'utente che è 18-14 anni gli interessi dell'utente e poi le azioni dell'utente che sono un array per ogni c'è ogni elemento una singola azione poi cosa facciamo quando dobbiamo creare un cluster l'interfaccia che ha fatto vedere salvo costruisce una una regola in un linguaggio proprietario in questo caso è molto semplice praticamente c'è una user rule che dice che il genere deve essere uguale a termine questo è il linguaggio proprietario inizialmente prima viene tradotto in SQL facendo sostanzialmente una select from user where gender è uguale a M sostanzialmente nella stessa c'è invece una qui un po' più diversa in questo caso la query è molto semplice è una temps query in cui cerca tutti i documenti che hanno nell'attributo gender il valore M quindi questo è un esempio semplice nella difficoltà che abbiamo avuto invece questo è un altro esempio questo è un altro esempio in cui ci sono due condizioni in cui c'è l'esempio che è il genere che deve essere maschio e l'età invece deve essere 35 da 35 a 54 anni questo si traduce in una condizione in una condizione in end una boolean query vedete qua c'è scritto bool e poi un must must in una stessa che significa end e poi c'è una condizione sul gender che deve essere M e una condizione sulle girendi che deve essere 35 e 54 non so se abbiamo altri ludici di traduzione di regole li posso spiegare questo è ancora più complesso c'è il nest si sempre si aggiungono degli altri essenzialmente questa è una seconda condizione in cui c'è l'interesse praticamente l'interesse deve essere lo sport poi c'è la traduzione non si vede tutta la regola perché ovviamente l'ha aumentata la complessità la regola la regola aumenta siccome noi prendiamo i primi tre interessi allora è sufficiente che l'etichetta sport sia deve essere uguale sia a standard cat 1 oppure standard cat 2 oppure standard cat 3 quindi c'è una condizione minor anni data nella condizione inel su questi esempi sto guardando che scusa Mario volevo dire una cosa molto importante secondo me che avete fatto il linguaggio di proprietario quindi il linguaggio quello a metà immagino che avete usato SQL e l'axe search nello stesso momento quindi non avete cambiato tutta l'implementazione ma solamente la parte di interfaccia con il database certo il linguaggio proprietario non è cambiato è molto importante quando abbiamo fatto la traduzione dell'assistage inizialmente il linguaggio proprietario viene tradotto in SQL e poi lo stesso linguaggio viene tradotto in un assistage bene credo che la domanda iniziale di Fabrizio riguardasse anche il fatto quanto tempo è stato necessario per iniziare ad apprendere il funzionamento di elasticsearch e capire come andarlo ad integrare all'interno della vostra applicazione e così via ad esempio quante persone ci hanno lavorato inizialmente alla migrazione nel caso d'uso specifico di quel progetto che ci avete di quella insomma funzionalità che ci avete mostrato inizialmente siamo stati io e Mark a lavorare insieme io ho smanettato con il codice e Mark è stata la spinta per capire come dove essere risolto ci è riuscito ma è stato moltissimo molto bravo a capire come effettuare questa traduzione dal linguaggio intermedio al linguaggio dell'assistage e poi io l'ho implementato nei dettagli abbiamo avuto dai 1-2 mesi penso ci siamo voluti per fare una prima implementazione però la scuola del fondimento non è stata difficilissima per il fatto che la documentazione di Alessi Sergi è eccellente quindi con una documentazione eccellente come la scuola di Alessi Sergi si impara molto con l'escelenza io ti volevo domandare se esistevano dei corsi però mi hai risposto quindi il corso l'avete fatto con la documentazione ufficiale si però l'assistage fornisce anche dei corsi con pubblicazione anche che qualcuno può partecipare però noi abbiamo usato la documentazione che si trova su web perfetto bene posso fare una domanda io avete utilizzato voi Elasticsearch in cloud on prem e nel caso in cui lo utilizzaste in cloud utilizzate una versione managed o un managed perché esistono i vari cloud provider poi ne forniscono anche delle versioni diciamo così SaaS e service managed e così via quindi un'altra curiosità era quella se dato che la caratteristica principale è la scalabilità orizzontale chiaramente gli chiedevo quindi se lo utilizzasse in cloud innanzitutto in Kibana e some nice monitoring stuff for the cluster that you are able to use and it also enables some security features which would otherwise don't exist in the open source version itself so we don't like using SaaS because we like the flexibility to configure the cluster on the hardware we want and also Elasticsearch is so easy to maintain that the benefits and cost of running it ourselves are significant we also previously had issues with SaaS we run used Elasticsearch in AWS for example and we find it quite restrictive with the configuration there and for example actually we were unable to use the instant types we wanted because they were the latest ones and that presented as a problem with performance that this was on another thing with Elasticsearch so our feeling is it presents much more flexibility if we configure everything and run everything ourselves Thank you Mark Salvo forse questa domanda puoi rispondere tu a grandi linee in termini percentuali chiaramente non 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 assoluti quanto avete risparmiato perché suppongo ci sia stato anche un risparmio economico in termini di utilizzo di risorse quindi quante più o meno come ordini di grandezza in percentuale quante macchine in più o in meno sono state necessarie per mettere in piedi Elasticsearch rispetto a quelle che utilizzate con la vecchia soluzione con il vecchio database relazionale questa è una bella domanda perché noi siamo partiti con un bisogno che era di esperienza dell'utente quindi volevamo offrire un servizio che fosse performante sia in termini di calcolo istantaneo real time della stima sia nell'effettivo calcolo offline dei dati che è quello che puoi utilizzare per l'attivazione e in particolare in questo secondo use case noi utilizzavamo più di un cluster di più di 100 macchine ad up che è dedicato che è stato trasformato in un cluster di adesso Mark conosce meglio i dettagli ma di meno di 7 diciamo macchine con elastice search delle medesime proporzioni questo perché oggettivamente la capacità di indicizzazione che ha questo strumento e anche la flessibilità su cui poi sono nati numerosi diversi altri use case ha incredibilmente diciamo fornito un ottime performance con minore risorse quindi come cto il massimo è la felicità che si possa ottenere una tecnologia che ti fa spammare e tu veloce ottimo detta così sembrerebbe magari il prodotto migliore del mondo poi sappiamo tutti chiaramente che in quest'ambito non esiste il prodotto perfetto quindi quando diciamo otteniamo dei vantaggi sotto determinati aspetti tipicamente li dobbiamo pagare sotto altri o molto spesso diciamo è determinante andare a scegliere la tecnologia giusta per il caso d'uso specifico quindi è molto frequente chi lavora in ambito big data lo sa anche dover mettere insieme vari prodotti e varie tecnologie no si parla oggi di chi si usa il termine polyglot persistence e così via lo sappiamo molto bene noi addetti ai lavori quindi volevo sapere invece di contro quando sconsigliate di utilizzare questa tecnologia perché magari qualcuno potrebbe diciamo trarre delle conseguenze sbagliate uso Elasticsearch e risolvo tutti i miei problemi quindi è molto adatto a questo tipo di caso d'uso specifico quali sono invece i casi d'uso nei quali chiaramente non va utilizzato Elasticsearch invece è più adatta a una tecnologia una piattaforma analitica tradizionale quale appunto la dup che hai citato tu prima o Spark o insomma un engine di questo tipo ok 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 I'm going to do it so yeah basically Elasticsearch really fits well for this use case because we do a lot of search and queries on the same model and we also are doing search and queries on all the attributes that we are storing so if you think about that data you saw earlier in that slide all of those fields we're not fetching any of that data like we're not doing lookups to get that data we're actually doing queries on that information throughout the use case the other important thing with the model is we're actually querying that data a lot so we've got lots of different queries which we need to run across the same data and so it sticks out that querying and searching the data is actually what we're doing a lot of and also one of the things we found because as we previously said also as we were running in redshift the type of search that we're doing which tends to be with lots of or conditions is actually really well optimized in elastic search in the reverse index rather than a conventional database would have a lot of trouble doing lots of or so really if you don't need in this particular case for us elastic search is very good fit but where you wouldn't want to use elastic search would be if you were doing a lot of updates to data or doing things like counters or lookup and or need lots of fast random access to specific information where you might be using something like HBase or Redis or something like that those sort of use cases you want to avoid elastic search because it's not actually very good at handling updates the power with elastic search is obviously in the search Spark on the other hand as well is great for ETL so we actually still use Spark to load the data into elastic search so the power of Spark really is to be able to prepare process and load the data and move it from one place to another and handle scrappy data as well and of course with Spark SQL you can also query the data before you've indexed it so obviously we're pre-indexing the data to query it but if you don't want to do that Spark SQL I think is probably the best way of querying data when you've just got it in flat files Thank you Mark l'altra domanda che volevo farvi è dopo questa prima esperienza e questo diciamo primo caso di successo dove avete utilizzato la tecnologia avete iniziato a utilizzarla estensivamente avete implementato altri use case o avete attualmente in lavorazione degli altri casi d'uso che prevedono l'utilizzo di elasticsearch sì provo a dirle io qualcosa su questo perché appunto abbiamo come dire concentrato all'interno di Exaudi diversi use case collaterali venuti quasi spontaneamente cioè una volta che questo indice con gli utenti i propri attributi e le azioni e segmenti di appartenenza ricalcolati ritornano indietro all'interno dello stesso indice si potevano utilizzare abbiamo iniziato a sviluppare altri diciamo immediatamente altri use case che calcolare le statistiche cioè quanti utenti che appartengono a un segmento hanno una determinata caratteristica che prima si calcolava a posteriori viene automaticamente calcolato facilmente interrogando l'indice quindi utilizzato come sistema a tutti gli effetti di analytics stiamo ancora ragionando per creare un sistema globale sui dati per permettere ai nostri clienti non solo di interrogare la base dati in quella forma che abbiamo visto prima diciamo ad imbuto ma in generale avere proprio uno strumento di data exploration anche utilizzando quegli strumenti di visualizzazione interattiva che tipicamente si associano all'assist search in questo senso mi faccio un attimo un volo pindarico su un'altra applicazione che in realtà è nata un po' prima come storia rispetto a quella ed è stato anche un caso d'uso dell'assist search significativo che dal nostro punto di vista è abbastanza carina da raccontare vi mostro lo schermo un attimo se riuscite a collegarmi questa è una sempre ex-audi dentro questa mostra il numero di televisioni connesse con l'HBDTV l'MHP quindi la strumenti interattivi in tempo reale mostra quante persone sono connesse e quante stanno visualizzando questa architettura che è stata sviluppata di cui Mark conosce in dettaglio tutti i pezzettini mette insieme una capacità di tracciamento una pipeline in tempo reale con strumenti tipo Kafka nello specifico Kinesis e poi un aggregatore sull'assistirci di un indice in questo caso di un canale televisivo con la capacità di poterlo mostrare questo strumento ci permette in questo momento a un nostro cliente di poter sapere in tempo reale quante persone stanno guardando quindi in questo momento canale 5 diciamo che è il canale e il canale è più gettonato questo evidentemente sono esattamente delle persone che si possono anche contattare con dei messaggi di attore pubblicitaria e questo strumento permette anche grazie alla flessibilità di Elasticsearch di poter andare un po' dietro nel tempo e mostrare a scala diversa sfruttando il fatto che poi man mano nel tempo passa si possa aggregare sempre di più come è andato per esempio nelle ultime tre ore questo è Grafana noi siamo un po' fan di Grafana piuttosto che di Chibana proprio la sua peculiarità e anche flessibilità questo mostra ad esempio nelle 24 ore un certo andamento e mostra anche i confronti con gli altri giorni è uno strumento che si utilizza tutti questi dati sono presi dall'AxteSearch o hai parlato anche di altri strumenti per esempio Kafka dove vengono presi sono tutti dall'AxteSearch vengono ingestati vengono tutti presi dall'AxteSearch però il sistema che aggiorna l'AxteSearch in questo caso è una pipeline credo Mark può dire un po' di più di questo Mark ancora All the data is actually in Elasticsearch for this real-time dashboard One of the interesting things that we implemented here for this was the roll-up of the data because what actually happens is the history of the data is rolled up so that we're able to store actually a very long period in fact at the moment we've never actually removed any of the history and the roll-up was a feature that is actually now being implemented within Elasticsearch but we actually implemented our own version of the roll-up to achieve that and get so essentially we're storing the full history of what happens and connecting that with the real-time data all within Elasticsearch and as Salvo's just activated now he's activated the schedule so these lines here actually show you that it shows you a restricted number of them because the latest ones but these are actually if you click on the little icons down on the tags at the bottom that'll show you that these are the starts of programs on the channels that's shown there so there you got the flash that's starting so this is to show that the color is the channel so if we were a little bit more zoomed in there you should be able to see sometimes you can usually see the adverts on the television anyway by the dips in people viewing esatto lo dico un po' in italiana quando c'è la pubblicità normalmente ci sono dei pitti in basso questo non diciamolo ai ma lo sanno però è utile questo in realtà appunto dal punto di vista tecnologico è un'applicazione più standard assist search dal punto di impatto finale è decisamente più appealing perché poi viene anche utilizzato per scopi di analisi pensate che normalmente i canali standard di rilevazione del traffico televisivo utilizzano molti meno device sono molti più campionati questi sono reali sono esattamente tantissimi televisori consensati con tutti gli elementi della privacy strutturato quindi non stiamo diciamo mostrando dati che non sono corretti questa è un'altra applicazione di la nostra applicazione ci aspettiamo di utilizzarlo ancora nel senso che come un po' dicevi bene Mario non è che una tecnologia fits all noi ci piace un po' sperimentare se vuoi essere in una parola la storia di minuità è stata come dire è sempre spinta dal bisogno di innovazione tecnologica prima perché è un'azienda piccola che è flessibile quindi ha bisogno per essere sul mercato per riuscire a essere successo ha dovuto necessariamente innovarsi continuamente l'altra cosa è un po' siamo andati dietro alla crescita dei dati se volete l'onda di big data rischiava di sommergere qualsiasi azienda che lavorava con dei dati allora piuttosto che farci schiacciare abbiamo cercato di 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 navigarla forse per questo si dice che utilizziamo tecnologia on the edge perché in qualche modo per sopravvivere uno deve riuscire a starci un po' sopra grazie grazie mille salvo grazie anche a a mark calogero e anche a a fabrizio diciamo ci dirigiamo verso verso la fine di questo primo appuntamento personalmente è stato molto interessante anche divertente insomma vi ringrazio nuovamente ancora questo format è un po' un esperimento pensiamo di organizzare una sessione di domande risposte ancora non abbiamo ben definito le modalità ma le comunicheremo sicuramente sui canali social non appena sarà disponibile la registrazione di questa intervista per cui vi ringrazio nuovamente vi saluto e vi do appuntamento insomma ai prossimi appuntamenti della 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 serie grazie mille buonasera da tutti ciao ragazzi grazie ciao ciao